Siamo arrivati alle pagelle di Trapani, avutace Cerignola All'analisi ragazzi, una partita in cui Cerignola praticamente è stata tutta la partita assente Tranne forse nel secondo tempo in cui prima del 5-1 che l'ha preso praticamente nel 90 Comunque sul 4-1 la squadra sembrava far meglio Meglio il secondo tempo, il primo tempo ragazzi oramai Cioè stavi sotto di tre gol dopo 20 minuti quindi non potevi fare un granché E poi c'è stata la reazione con il gol di Sainz e Mazza Ma comunque ragazzi non trovo un migliore Forse Saracco Forse Saracco Ma per qualcosa È veramente una squadra che ha fatto fatica Probabilmente anche un po' Giocare sempre con gli stessi giocatori magari Può averla anche destabilizzato Vuoi prendere uno scivolone ma In questa maniera è brutto perché Magari Sì Un fallo, un cartellino rosso la perdi 2-3-0 Ma ragazzi 5-1 è umiliante È questo che mi ha fatto arrabbiare L'umiliazione Perché ci sta a perdere Ma in questa maniera È brutto È brutto perdi in questa maniera E ragazzi vado con le pagelle Vado con le pagelle Iniziale da Saracco Voto 5-5 Ragazzi non posso dare 6 a Saracco Perché comunque qualche errore l'ha fatto anche lui Soprattutto sul terzo gol Sul quarto I primi due I primi Gli altri tre che ha preso Colpa della difesa Ma sul terzo gol Poteva fare di più Poteva fare di più Difesa Vicentin 4 Era stato il migliore contro Il Sorrento Ieri non di col peggiore Ma uno dei tanti Connelli Voto 4-5 4 anche lui Martinelli Voto 4-5 Forse quello che Ha difeso un po' meglio Passiamo al centrocampo Coccia Voto 5-5 Ha giocato bene Infatti il migliore insieme a Saracco Forse il migliore del Cernona Tascone 4 Capomaggio 4 Paolucci 5 Russo 4 Ruggero 4 Ruggero 4 Ragazzi vado veloci con le pagelle Perché non sto a dare motivazioni Ve lo date già nel pre Salvemini Voto 4 Ragazzi Questo è il Cerignola di ieri Purtroppo mi amareggia Dare queste votazioni Speriamo che insomma col Picerno La squadra torni a essere il Cerignola Che si è visto in queste nove giornate Un Cerignola aggressivo Un Cerignola cattivo Un Cerignola che gioca Con le inserzioni Con Paolucci E Tascone Un Cerignola cattivo Non si è vista la cattiveria Ragazzi ieri Cioè praticamente Il Trapani è stato Veramente Ha dominato il match Ragazzi Farsi umiliare così è brutto E Sono ancora amareggiato Allora ragazzi Vado a dare anche Il pagellone di F1 E lo faccio già nel video Visto che le pagelle di Cerignola E andiamo a dare Allora il pagellone di F1 C'è un video unico Uomo format Pagellone di F1 Leclerc Voto 9 Ragazzi Che partenza di Charles Leclerc Ha approfittato Della Lo scontro Norris Verstappen E si è infilato Ed è Ha fatto veramente Una grandissima Gara Sainz Voto 9 Anche Sainz Ragazzi il migliore Andare A prendere Verstappen Poi Bene Perché la Ferrari ieri Ha fatto veramente bene È stata la Superiore Poi Max Verstappen Ragazzi andate a seguire la carriera Max Verstappen Tra l'altro oggi registro di nuovo carriera Max Verstappen Continuate a seguire un po' le carriere gaming con F1 e FC25 Max Verstappen votò 8 Buona la sua gara Poi peccato perché la Red Bull forse ha sbagliato E poi ha lottato con Norris Con disinvoltura Grande pilota Max Verstappen Poi Norris voto 8 Ha sbagliato forse lì Andandosi a prendere Poi Ha fatto delle robe ingenue Norris ma Comunque la McLaren Rimane lì Piastri Voto 7 Che Piastri Buona gara Russell voto 8 E' partito dalla pitlane E' arrivato sesto Un gran George Russell Poi Lowson voto 7 Anche lui Partito dalla Sedicesima posizione E' arrivato Arrivato addirittura Nono Poi Colapinto Voto 8 Anche Colapinto Grande Grandi piloti Si sono visti ieri E' l'unico Hamilton Che ragazzi Male 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 Devo dare 4 A Hammer Time Finiamo Tutto Ragazzi Adesso riprendo Con la carriera Proprio con Max Verstappen In F1 24 Allora ci vediamo Bella a tutti E fino a oggi Proprio con la carriera